Fede e tecnologia, un binomio inusuale ma dal successo assicurato. Chiedetelo due trentenni siciliani, Barbara Labate e Francesco Italia, titolari di una società, la McKay Sisters, con sede a Milano, che si occupa di contenuti editoriali per telefonia mobile. La novità? Fornire immagini sacre da scaricare a pagamento sul cellulare, come si fa con le suonerie. Un'idea nata da una vicenda personale, come spiega Barbara Labate, laureata in Scienze Politiche all'Università di Messina, Master in Media e Comunicazione alla Columbia University, esperta di informazione simmetrica e appassionata di informare. Cantavo il mio socio Francesco Italia di come mia madre nascondesse dei santini della Madonna, di Dottunosco, all'interno delle mie valigie, prima di ogni partenza. E quindi io, inconsapevole, arrivavo a destilazione e scoprivo in tasche, sotto maglione e magliette, di avere portato con me questi santini. E a lui è venuta questa brillante idea, scusa, ma perché non facciamo in modo di poter avere sempre con sé un santino e quindi portarlo sul proprio cellulare, che poi è il mezzo che abbiamo sempre con noi. Lo accendiamo la mattina appena ci svegliamo e lo spegniamo, se lo spegniamo, la sera prima di andare a dormire. Da qui ai mille abbonati, in soli 20 giorni, fino alle richieste dell'Ostrociano, il passo è stato breve. L'iniziativa ha suscitato l'interesse dei media di tutto il mondo, dagli italiani Corriere della Sera e la Stampa alla CNN, la BBC, passando per il Washington Post. Tra i più gettonati, Papa Vojtila, Padre Pio e Sorpresa e Santa Lucia. San Patricio, invece, è il prediletto dagli americani, seguito dalla Vergine di Guadalupe, per il mercato degli immigrati messicani. Trenta le immagini a disposizione, ma ben presto ne saranno aggiunte altre. Il comune di Lentini, ad esempio, ha chiesto che sia inserito anche Sant'Alzio, patrono della città. I due trentenni entusiasti del successo riscontrato rispondono alle critiche della conferenza episcopale italiana sul rischio di una distorsione del sacro, spiegando che richiedere le immaginette per il cellulare è come acquistare un articolo religioso in un negozio specializzato. E se nel mondo c'era già chi forniva preghiere, passi della Bibbia via SMS, al servizio dei santini digitali all'indirizzo www.santiprotettori.com, prima dei nostri due conterranei non ci aveva pensato ancora nessuno.